Proporrò il conferimento della cittadinanza onoraria a Coulibaly ad annunciarlo il sindaco di Ponte Gagnano Faiano Giuseppe Lanzara dopo i cori razzisti indirizzati al difensore azzurro durante il match del 26 dicembre fra Inter e Napoli. Un gesto significativo ancora di più se si considera la fede calcissica del primo cittadino da sempre interista ed iscritto da anni al locale Inter Club. Noi all'articolo 2 dello Statuto Comunale abbiamo un articolo che parla dei diritti dell'umanità, dei principi contenuti sulla Carta Europea dei diritti dell'uomo nella città ai quali noi abbiamo aderito come Comune di Ponte Gagnano Faiano. Questo per noi è motivo di onore e di orgoglio e per questo motivo io collegandomi non soltanto a fare una critica ma a parlare in favore, io ho intenzione di proporre al Consiglio Comunale la cittadinanza onoraria a Coulibaly proprio per il segnale di amicizia, di fratellanza e di rispetto dell'essere umano a prescindere dal colore, dal colore della pelle, dalla propria cultura religiosa eccetera. Quindi io credo che questo Comune, la città di Ponte Gagnano Faiano può sicuramente proporsi per la cittadinanza onoraria a questo ragazzo, a questo giocatore che potrà magari più in là in futuro farci anche visita e venire a spiegare ai cittadini e soprattutto nelle scuole che cosa vuol dire combattere il razzismo. Poi magari scriverà un posto più in là dove oltre ad essere orgoglioso di essere francese, senegalese e napoletano potrà dire di essere orgoglioso di Ponte Gagnanese e di un sindaco interista che gli ha dato la cittadinanza onoraria.